Dagnè, dobbiamo studiare dai, come devi giocare portabile, sei scemo, ma a me stai devi interrogare, dobbiamo studiare il settore secondario, che è il settore secondario, capito? Anzi, devi studiare te, non lo studiare io. No, non ce la voglio. Come ce la voglio, mannaggia. Industria? Industria è la strutturale e la strutturale alimentare. Ah, hai capito, io lo studiamo. Sì, devi studiare a questo mio. Dato che fai lo scuffo, ne rifaccio qualche domanda io. Eh, vabbè, a me st'interrogazione, dai. Hai capito, Dagnè, mi interroga. E l'industria che fanno? Fanno l'industria, fanno le cose con le macchine, fanno tutto con le macchine, capito? E ci mettono, fanno prima, praticamente, dell'artigianato. Che fa l'artigianato? Lavora con le mani. E che lavora con le mani? E ci mettono più tempo. Perché? Mettono più tempo perché lavorano. Perché leggi? Dai, leggi, eh, furbo d'ho visto, lo sai. Papà, se siamo ascoltati di una cosa. Che nell'artigianato si lavora... Di vetro e di... Di mu? Rano? Di murano e... Il cuoio di... Il cuoio di murano. Mi raccomando... Al vetro di murano che... La maestra mi sei raccomandata, eh? Mi raccomando, eh? Dico di l'industria chimica. L'industria chimica non fanno la plastica. Lo fanno... E... E... Medicine... E... E... Un'altra chimica. L'altra qual è? Il sapone. Il sapone, il sapone. Fanno pure il sapone. Vedi che... Lo so. Come gli diria la maestra? E l'artigianato? L'artigianato lavora con le mani e ci mette tutto il tempo invece nell'industria. Perché l'industria? L'industria lavora con le macchine. Bravo. Cos'è l'industria tessile? E... Fanno le magliette. Fanno le magliette. Le magliette, sì. Magliette. Eh, io lo sapevo, eh. Ecco, papà. Parivo, eh. Che c'è, papà? Eh? Che c'è? Aspetta, papà, è quasi finito. Aspetta. Sona, papà. Trin, 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 trin. Sona il campanelli. Ecco, eh. Tu vado da Daniele, ecco. L'industria alimentare? Dimmi la devi indossarmi. L'industria alimentare? Hai capito che figlio dell'androtti, eh, Daniele? Alla fine? Per morare dalla favola è stato un po' di costruire io. Capito? Eeeh... Asta? Eh. Eeeh... Brava, papà! Ho detto tutto di niente. Cos'è l'industria dei mobili, Daniele? Rispondimi. L'industria dei mobili si... Fanno i mobili. Bravo, vedi? Fanno i mobili? Eh, eh. Che ci vuoi? Eh, eh. Che ci vuoi? L'industria dei mobili fanno i mobili. Ciao, amici. Ciao, amici di papà. Di YouTube. Di Antonio75. Ciao a tutti. Andiamo a cambiare un altro che si sta a lamentare. Allora, bravo papà, mi sono imparato un'altra cosa. Perché io non ho mai studiato queste cose. E quindi mi sono imparato un'altra cosa. E andiamo. E vai. Sei a posto, papà? Sì. Sei a posto così? Sì. Eh? Ora tra un po' mi ripeti tutto. Andiamo a cambiare un altro. E ormai papà, cambiati a te. Ormai sei diventato grande. Ecco papà, ecco papà, eh. Ecco papà, sto arrivà. Ecco papà. Ecco, ecco. Ciao.